Siamo con Stefano Penge e parliamo di problemi legati alla didattica a distanza e in particolare di un problema soprattutto e cioè del problema di quali piattaforme si possono utilizzare per fare didattica a distanza o come ora si dice meglio didattica digitale integrata. Intanto diciamo chi è Stefano Penge? Stefano Penge è una persona molto nota negli ambienti del web perché si occupa da moltissimi anni diciamo da un quarto di secolo possiamo dirlo si occupa di sviluppo delle piattaforme per la formazione online ma da altrettanto tempo si occupa anche di didattica della multimedialità anzi Stefano Penge è stato uno dei primissimi che ha sperimentato strumenti per fare didattica con la multimedialità. Quindi è persona assolutamente titolata a parlare sull'argomento. Senti Stefano questo è un tema molto complesso molto complicato l'altra qualche giorno fa anche l'ex ministro Fioramonti è intervenuto su questo per dire facciamo attenzione perché abbiamo bisogno di una piattaforma unica nazionale possibilmente gestita certamente dal ministero o comunque da un ente pubblico da un organismo pubblico perché l'uso di piattaforme private comporta tutta una serie di problematiche. Allora basta dire questo per aver risolto il problema o la questione è un po' più complessa? Beh è un po' più complesso ovviamente perché intanto se deve partire da che cosa significa piattaforma piattaforma è un termine che ormai si usa veramente una parola passepartout quasi come didattica a distanza piattaforma in teoria dovrebbe essere una tecnologia abilitante che permette di fare qualche altra cosa come le piattaforme nell'oceano come piattaforme dei tuffi insomma è un posto comune da dove una piattaforma politica su cui si fa cosa? Che cosa si fa? Cioè che cosa ci si mette su questa piattaforma? Ci si mettono dei contenuti? E allora c'è il problema di dove vanno presi questi contenuti? Di chi sono? Come si condividono? Come ci si accede? Oppure la cosa che ci si mette sopra non sono contenuti ma sono attività sono moduli e allora questi moduli dove stanno? Chi li decide? Come vengono sviluppati? Come vengono validati? Quindi diciamo anche soltanto partendo da quel termine lì ci sarebbe tanto da precisare ma poi diciamo ci sono anche dei problemi che a me appaiono subito evidenti appena si parla di una piattaforma unica unico in Italia è qualcosa di molto difficile perché abbiamo un territorio molto 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 vario molto differenziato io abito in una zona della provincia di Roma in Campania qui da me non arriva il cavo internet via cavo non c'è non c'è la fibra ma non neanche via telefono ma non c'è quindi io sono costretto a utilizzare satelliti Ymax cioè tecnologie alternative e penso che come me sono tanti quindi uno parla di dorsali parla di quello che vuole ma poi c'è l'ultimo pezzettino io lo chiamo il miglio verde ma insomma un po' triste come termine perché l'ultimo chilometro poi cambia quindi qualsiasi proposta unica deve tener conto invece dello spezzettamento del territorio e quindi probabilmente dovrebbe invece intanto pensare a suddividersi in funzione dei territori in funzione delle fasce scolari in funzione di delle variazioni quindi mi spaventa già il fatto che sia unica come 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 modello se vuoi ti dico anche che non soltanto è una è un'idea questa dell'unico un'idea forse anche vecchia anche fuori fuori moda nel senso che dal punto di vista diciamo informatico i modelli che adesso si usano per progettare servizi intanto sono architettura ormai sono basati sui servizi quindi non si parla più tanto di ma di servizi ora questi quella che va di moda adesso è l'architettura che si chiama micro servizi cioè io prendo un servizio che voglio dare per esempio ai genitori ai docenti agli studenti lo smonto in pezzettini perché un pezzettino è la comunicazione uno sarà la collaborazione ma poi ci sarà anche la valutazione poi ci sarà la votazione ci saranno vari pezzettini questi pezzettini non devono stare tutti insieme in un unico blocco ma sono per l'appunto micro servizi staccati che possono anche stare in posti diversi l'importante che si parlino fra di loro allora è molto più importante definire dei protocolli di comunicazione fra questi questi pezzi come come si devono parlare e quindi è importante che ci siano degli standard aperti che queste questa architettura sia 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 pubblica ma l'architettura non è necessario fare la piattaforma che sta tutto in un posto su una una specie di server farm che sta tutto in un posto dove tutto tutto l'insieme per cui quando quella posto va a fuoco come è successo a ruba anni fa si ferma tutto e abbiamo finito non è un modo che non si usa più questa maniera qui quindi già mi sembra un po però converrà conviene sul fatto che per la didattica distanza è opportuno che esista una piattaforma pubblica allora anche su questo io preferisco parlare di generale di open source nel senso che per me la cosa fondamentale è che si sappia esattamente quando che cosa succede dietro nel back end che cosa succede dietro perché davanti lo vediamo c'è l'interfaccia sono dei bottoni delle cose si ma poi quando io clicco che cosa ne ha di quel click che cosa ne ha dei miei dati a chi vanno anche non mi dati personali anche sono i miei clic c'è qualcuno mi sta profilando quindi sa che mi interessa una cosa un altro allora tutto questo può essere dichiarato accettato accettato dai genitori nel caso di studenti minori accettato da va bene oppure può essere nascosto l'open source è uno dei modi per dire io voglio sapere esattamente qual è il percorso di quel click quindi la prima cosa secondo me che deve essere necessariamente basata su software con source tra l'altro questo non è una cosa che dico io lo dice il cad c'è un articolo 68 del cad che dice che quando si sceglie quando la pubblica amministrazione sceglie un software deve fare una valutazione comparativa e deve prendere in considerazione il software open source tra l'altro potrebbe prendere in considerazione il riuso quindi diciamo prima di andare a comprare qualcosa bisogna vedere se esiste non tanto una cosa meno cara ma una cosa che magari ha lo stesso prezzo magari con le stesse funzionalità però se open source è meglio perché è più sicura perché trasparente perché posso capire come funziona il fatto che sia privata invece sembra fare riferimento non soltanto a questa questione che è quella di chi possiede i dati e cosa ci fa ma anche la questione dei costi perché si suppone che privata costi invece oggi ci siamo ci dovremmo secondo me disabituare a quest'idea perché abbiamo evidente evidenza proprio davanti a noi di cose fatte da privati gratuite e quindi se uno dice semplicemente gratuito rischia che arriva il grande play diceva eccomi ecco io ti do la mia cosa gratuita che problema c'è io io gestisco sicuramente tutti gli accessi che dici tu ho sicuramente la possibilità di dare questo servizio non te lo faccio neanche pagare allora in questo caso pubblico deve significare non in mano a un singolo che poi può un giorno decidere che non è più gratuito oppure può decidere che ma se a me scoccia questa cosa poi spengo la luce e poi rimettere senza i dati a distanza senti stefano spostiamoci un attimo proprio sul problema della didattica a distanza usiamo questo termine per semplicità ecco poi sappiamo che il termine dovrebbe essere un po rivisto ritoccato ampliato eccetera secondo te tu sei appunto esperto di formazione online da tempo immemorabile ma secondo te la didattica a distanza sarà un po come dire un pezzo perlomeno della didattica del futuro perlomeno in alcuni livelli di scolarità oppure tu pensi che debba essere necessariamente relegata alle fasi di emergenza come quella che stiamo attraversando penso che ormai anche persino in italia ma sono almeno 20 anni che si cerca di di definire un modello di interazione basato su su software e quindi su su applicazioni diciamo web o comunque via internet e che costruisca un piano proprio un piano digitale su cui si possa lavorare insieme ma anche in classe anche in aula anche tra persone che stanno fisicamente insieme nello stesso posto perché quel piano è quello che permette di collaborare su oggetti che diventano oggetti comuni che si possono smontare rimontare si può si può vedere come sono fatti dentro si può cercare di simulare un mondo e il computer permette di fare questa cosa il fatto che diciamo che che non succeda che non succede abbastanza non è sia successo in questi ultimi vent'anni è effettivamente uno dei problemi della della didattica della scuola ma anche dell'università ma anche della formazione professionale di tutti i tipi di formazione che sostanzialmente sono rimasti un po impermeabili a questo uso dei computer cioè alla fine li si usa come strumenti o così di di questo momento di collaborazione o di sono semplicemente di comunicazione ma non strumenti di costruzione della conoscenza in maniera collettiva che invece la cosa che fanno meglio e per questo io non diciamo avrei visto molto bene una crescita dell'uso dei computer anche nella scuola in presenza tanto che a un certo punto quando si passa a un momento in cui non si può incontrare beh quella parte rimane praticamente invariata cambia il resto ma quella invece continua questo che tu dici è estremamente interessante ma penso che tu sia d'accordo prevede diciamo rende necessaria anche una grande operazione di formazione di tutto il personale della scuola o no allora su questo ho cambiato idea recentemente nel senso che fino a un po di tempo fa ero convinto che effettivamente c'è fosse bisogno di formazione formazione in qualche maniera ben strutturata con dei principi con dei dei diciamo un protocollo generale che dice cosa fa fatto adesso credo che la cosa più evidente della pandemia e delle tutto quello che ci è successo in questi mesi è che ha funzionato molto meglio quello che i docenti e genitori hanno scoperto da soli sulla base dell'emergenza e del dover fare qualcosa che i 20 anni precedenti di formazione tutte le operazioni gestire dal ministero dall indire da dei sindacati di quelle non c'è traccia perché poi oggi improvvisamente le domande sono di nuovo le stesse ma adesso ci sono delle domande vere fatte dalle persone che dicono io oggi devo fare questa cosa come si fa e a quella cosa viene dato una risposta in quel momento quella risposta funziona quella l'hanno imparata allora se vogliamo fare formazione deve avere un altro modello che non è più quello arrivo io e ti dico come stanno le cose perché quello non funziona quindi il problema non è di natura tecnica cioè non è che una piattaforma sia di per sé meglio di un'altra allora io qualcosa su questo ce l'avrete a dire perché come sai siccome ho passato parte di questi 25 anni a progettare piattaforme e progettarle e a che realizzarle e a cambiarle modificare eccetera perché effettivamente funzionavano più o meno bene a seconda dei contesti quindi penso che non è che possiamo disinteressarci dell'aspetto qualitativo del fatto che una cosa funziona meglio o peggio o funziona meglio per quel contesto senza fare nomi però insomma uno dei lavori più più recenti stavo cercando di capire che cosa significa spostare prendere un'applicazione per il learning diciamo tradizionale pensata per adulti spostarla per dei ragazzi che cosa significa esattamente che cosa cambia cambia solo l'interfaccia cambiano i flussi cambiano i processi il lessico quando io vedo l'uso usare delle piattaforme che sono chiaramente nate per la per l'ufficio come una volta si diceva istone suite per ufficio ma poi le portiamo a scuola e lì era un problema un problema anche di proprio di terminologia no di modi di pensare adesso succede la stessa cosa ci sono applicazioni suite gruppo piattaforme pensate per l'ufficio per la collaborazione tra adulti che devono produrre qualcosa che vengono usate per la diciamo per l'apprendimento da parte di bambini e lì succedono delle cose che non so c'è o lì c'è qualcosa che non va non penso che bisognerebbe cercare di di portare diciamo la parte tecnica deve supportare quella pedagogica non è che ci dobbiamo adattare quindi decidere tutti quanti dobbiamo invece docente lo chiamiamo moderatore d'ora in poi quello è un docente non è un moderatore moderatore un'altra cosa questa non è cioè noi stiamo facendo adesso una videoconferenza una colla come si chiama la chiamata ma la lezione non è una col bene mi pare che abbiamo sviscerato un po diversi problemi speriamo di poterci parlare ancora e di approfondire di approfondire altri altri tema grazie a stefano molto lentieri grazie grazie a tutti